Il dragone è una variante della difesa siciliana che prende vita contro la siciliana aperta, ovvero quando il bianco gioca con d4 e cavallo per d4 dopo la mossa pedone g6, quindi il nero sta preparando lo sviluppo dell'alfiere in fianchetto e arrocchera corto. Molto spesso in questa variante si otterranno posizioni con gli arrocchi eterogenei, ovvero il bianco arrocchera lungo e il nero arrocchera corto. Questa è una variante molto molto popolare che però recentemente è giocata sempre meno, soprattutto dai forti giocatori. Per quale motivo? Perché con i forti computer e l'evoluzione magari di stockfish o comunque dei motori principali, il bianco riesce a mettere in difficoltà il nero generando un attacco che prende il nome di attacco jugoslavo. Dove il bianco arrocchera lungo, quindi molto spesso vedremo uno sviluppo del genere e poi con f3, g4, h4, h5 andrà ad aprire la colonna h. Ricordiamoci che il nero molto spesso arroccherà corto, l'arrocco lungo è praticamente sempre impraticabile e una volta aperta la colonna h qual è il piano del bianco? Il bianco vuole sfianchettare l'alfiere camposcuro del nero, ovvero vuole scambiare l'alfiere in g7 con il suo alfiere camposcuro. Come fa ciò? Abbiamo detto che l'alfiere andrà in e3 e la donna andrà in d2, quindi questo alfiere sarà supportato per inserirsi nella posizione nera con l'alfiere h6. A quel punto avremo il cambio, quindi alfiere per g7 e mettiamo caso re per g7 tenendo conto che re del nero ha arrocchato corto e a quel punto la donna da d2, visto che la colonna h è aperta, potrà andare in h6 supportata dalla torre, ci sarà scacco, re indietreggerà e molto spesso l'unico difensore che terrà in piedi la posizione del nero è il cavallo in f6 che impedisce donna per h7 che sarebbe scacco matto. Ricordiamoci sempre che la torre difenderebbe la regina in h6. Questo cavallo però molto spesso può essere cacciato via ad esempio con una mossa come pedone g5 e poi donna per h7 è in arrivo. Su cavallo h5 molto spesso ci sono sacrifici di qualità e la mia idea è mostrarvi tramite una partita giocata da bobby fisher come il bianco può mettere in difficoltà il nero con questo attacco jugoslavo. Ovviamente il dragone non è un'apertura che perde, è un'apertura giocabilissima, quindi semplicemente il dragone ha perso di popolarità perché esistono aperture che rendono la vita al nero un po' più semplice. Però il dragone è un'apertura che ho giocato anch'io un sacco da piccolo ed è molto divertente da giocare perché c'è un attacco e contrattacco quindi un giocatore con il nero che vuole sbilanciare la posizione magari rischiando un po' di più per cercare di vincere può tranquillamente giocare questa variante. Oltretutto tenete conto che io comunque parlo di livelli molto molto alti quindi tra grandi maestri magari il bianco che conosce tutta la teoria e sa come mettere in difficoltà il nero può ottenere un vantaggio maggiore magari rispetto ad altre aperture. Detto ciò iniziamo con l'analisi di questa partita tra Bobby Fischer e Bent Larsen e qua seguiamo la variante principale con alfiere E3 quindi il bianco sta preparando l'arrocco lungo. Qui cavallo G4 una mossa che strategicamente ha senso non funziona per via di alfiere B5 e scacco e dopo alfiere D7 il bianco può giocare donna per G4 sfruttando il fatto che l'alfiere in D7 è inchiodato e non può catturare la regina bianca. Per quale motivo questa mossa a livello strategico ha senso? Perché il nero vuole eliminare l'alfiere Camposcuro del bianco e a quel punto dare matto per il bianco sarà molto molto più difficile perché non riusciremo mai a sfianchettare l'alfiere Camposcuro ovvero il principale difensore dell'arrocco nero. Ci sono un sacco di partite in cui il bianco nonostante riesca poi a catturare in H7 con la regina magari difesa dalla torre dopo Rf8 e la presenza dell'alfiere Camposcuro insomma il bianco non riesce a proseguire l'attacco per dare matto mentre il nero può lottare sul lato di re e attaccare il re del bianco. Quindi a livello strategico cambiare l'alfiere Camposcuro del bianco per un proprio cavallo sarebbe un successo enorme. Ma il nero andrebbe in vantaggio. In questo caso però cavallo G4 non è giocabile quindi il nero gioca con alfiere G7 e ora bisogna giocare con F3. Per quale motivo? Perché se noi proseguissimo con donna D2 adesso sì che cavallo G4 diventa un'opzione perché su alfiere B5 scacco il nero può parare come prima e non abbiamo più donna per G4. Per questo motivo in partita dopo alfiere G7 Bobby Fischer ha giocato con pedone F3. Abbiamo arrocco corto, donna D2, da notare che F3 non solo impedisce cavallo G4 ma prepara anche un eventuale attacco sul lato di re. Abbiamo cavallo C6 e qui la teoria ha principalmente due ramificazioni per il bianco. Il bianco può giocare con arrocco lungo oppure con alfiere C4. Queste due mosse hanno idee diverse. Allora partiamo da arrocco lungo. Su arrocco lungo l'idea del nero è giocare con pedone D5. Quindi il nero va a sacrificare un pedone dopo tutti questi cambi perché D5 cade. Però dopo donna C7 quello che ha ottenuto è un forte alfiere su questa diagonale che va ad attaccare il re del bianco. L'apertura di queste colonne per le torri e l'arrivo di alfiere C6 con attacco ancora una volta sull'arrocco bianco. Quindi il nero riesce a creare controgioco in tempo prima che il bianco riesca ad arrivare o comunque a partire con il suo attacco sul lato di re. La posizione è comunque pari però è un pari molto squilibrato. Cioè il nero ha grosse possibilità di attacco. Quindi per sbilanciare in una partita questa variante potrebbe essere l'ideale. Bobby Fischer però non gioca dopo cavallo C6 a arrocco lungo ma opta per la variante con alfiere C4. Vuole impedire il controgioco del nero con pedone D5. A questo punto la partita prosegue con cavallo per D4. Abbiamo lo scambio e alfiere E6. Il nero vuole giocare questa struttura pedonale dove tutto sommato ha cambiato due pezzi leggeri. Ha aperto la colonna F per la torre. Non ci sarebbero grossi problemi. Il bianco quindi qua gioca con alfiere B3. Ritira semplicemente l'alfiere. Il nero prosegue con donna A5. Mossa tipica per iniziare ad attaccare la posizione del bianco con B5 e B4. La donna su queste diagonali o comunque su questa colonna può creare ogni tanto dei problemi al bianco. Abbiamo arrocco lungo, pedone B5 quindi il nero inizia con l'attacco e adesso Re B1. Questa è una mossa molto forte dal mio punto di vista perché la minaccia del bianco è cavallo D5. Su una mossa random del nero, ad esempio facciamo pedone H6, il bianco può giocare con cavallo D5, attacca la regina in A5 e allo stesso tempo attacca il pedone in E7. E la questione qua è che quando il nero va a cambiare in D2 non fa più scacco perché la mossa precedente noi abbiamo giocato con Re B1. E di conseguenza il bianco prima di andare a catturare la regina può giocare cavallo per E7 e scacco come mosso intermedia. Il re si sposta, catturiamo la regina e abbiamo guadagnato un pedone. Questa è l'idea di Re B1. In partita però Larsen, che non è l'ultimo degli arrivati, se ne accorge, gioca con pedone B4 quindi attacca il cavallo bloccando questa diagonale e Bobby Fischer prosegue con cavallo D5. A questo punto abbiamo il cambio sul cavallo, alfiere per D5 e Fischer gioca con alfiere per D5. A quanto pare era più preciso giocare con E per D5, aprendo la colonna E e cambiando mentalità. Ovvero il bianco non vuole più attaccare magari come prima con pedone H4 o pedone H5 ma vuole giocare con le torri al centro della scacchiera per fare pressione sulla debolezza in E7. Che è molto difficile da spingere perché qua c'è una fortissima pressione sul pedone in E6 o sulla casella in E6. Il nero potrebbe proseguire con Danna B5 quindi vuole cercare contro gioco sul red del bianco giocando A5, A4. Il bianco ora deve essere molto preciso per cercare vantaggio. Torre 1, la mossa naturale, porterebbe alla parità totale perché il nero riesce a creare contro gioco. È vero, attacchiamo il pedone in E7 ma il nero può ancora evitare di difenderlo giocando con A5, quindi creando la minaccia di A4 che intrappolerebbe l'alfiere in B3. A questo punto il bianco quindi deve trovare via di fuga all'alfiere e di conseguenza cerca il cambio delle regine per dare la casella C4 all'alfiere. Il nero cambia e dopo torre per E2 gioca con A4, alfiere C4 e adesso il nero non difende passivamente il pedone magari con torre 8. A volte potrebbe anche essere esposto ad alfiere B5 con attacco sulla torre ma gioca con torre C8. Contrattacca l'alfiere in C4, quindi ancora una volta non facciamo in tempo a mangiare il pedone e su B3 difende il pedone ma dà una casella più attiva. Torre C7, quindi la torre sta giocando comunque sulla colonna C e allo stesso tempo difende il pedone in E7, fa due cose insieme. Quindi questa posizione sarebbe pari, il bianco però può trovare vantaggio con donna D3 al posto di torre 1. Per quale motivo? Perché adesso cambiamo le donne con la differenza che su pedone A5 l'alfiere è in tempo per bloccare l'avanzata del nero e questo alfiere è molto più attivo rispetto alla posizione precedente. Blocca l'avanzata nera, controlla la casella linee 8 e il nostro piano sarà ancora una volta raddoppiare sulla colonna E. Quindi il bianco otterrebbe vantaggio. Ovviamente il nero non può catturare in D5 perché seguirebbe alfiere per G7 e poi torre per D5. Il nero perderebbe semplicemente un pezzo. In partita però come vi dicevo prima Fischer ha giocato con alfiere per D5 consentendo al nero di giocare una posizione un po' più comoda con ad esempio cavallo per D5 e dopo i per D5 e donna per D5. Il bianco perde il pedone centrale in cambio del pedone B. Questi pedoni in un finale potranno essere pericolosi. Il bianco potrà creare un pedone passato sulla colonna C e oltretutto il pedone in A7 potrebbe risultare debole. Il bianco potrebbe andare ad attaccare questo pedone con il proprio re. Però ora non siamo in finale, siamo comunque in medio gioco. Ci sono ancora le torri sulla scacchiera e il nero può generare contro gioco sul re del bianco. La posizione sarebbe tutto sommato piuttosto equilibrata. In partita però Larsen non gioca con cavallo per D5 qua ma gioca con torre C8 e questo è un errore perché permette a Fischer di salvare l'alfiere dalla cattura. Questo alfiere è un mostro sia a livello difensivo sia a livello offensivo. Attacca F7 in particolare e inchioda questo pedone. E questo è un fattore molto importante in certe posizioni perché il pedone in G6 sarà difeso già molto meno. E quindi immaginiamoci una posizione dove io cambio due pedoni H, questo pedone risulterebbe indifeso e se una donna in qualche modo attaccasse il pedone in G6 potrebbe catturarlo sfruttando proprio il fatto che il nero non potrebbe ricatturare perché l'alfiere inchioderebbe il pedone in F7. In partita abbiamo torre C7 quindi il nero prepara il raddoppio sulla colonna C ma in particolare difende il pedone in A7. Cioè qual è l'idea del nero qua per creare contro gioco? E' spingere il pedone in A5. Per spingere questo pedone il nero vorrebbe giocare con donna B5 quindi per spingere il pedone e supportare anche l'avanzata in A4. Su donna B5 subito però il bianco può catturare questo pedone quindi è essenziale per il nero difenderlo prima con torre C7. A questo punto Bobby Fischer inizia l'attacco e gioca pedone H4. Gioca pedone H4 e non pedone G4 perché molto spesso pedone G4 è una mossa superflua che non aiuta veramente il nostro attacco. O meglio lo aiuta ma l'attacco può proseguire anche senza questa mossa perché il bianco molto spesso gioca con H5 sacrificando il pedone per aprire la colonna A che quindi vuole giocare con H5 immediatamente senza dover perdere magari una mossa a giocare pedone G4. Tanto l'attacco funziona lo stesso. Adesso per come sia evoluta la partita vediamo proprio l'esempio a livello pratico. E a questo punto il nero ha due opzioni o giocare con donna B5 per proseguire l'attacco e cercare contro gioco sul re del bianco come del resto è successo in partita oppure giocare con pedone H5. Una mossa molto naturale per bloccare l'avanzata del bianco no? Il pedone sta anche bloccando la spinta in G4 e il nero sembra sicuro e poi successivamente potrà giocare con A5 A4. Qui però il bianco ha una reazione devastante che dovete assolutamente conoscere. È una reazione tipica d'attacco, non è presente solo nella variante del dragone, è presente anche in altre aperture come la Pirc, la Moderna e tante altre dove c'è un alfiere in fianchetto. Qui il bianco attacca sacrificando il pedone G. Gioca con G4 e dopo H per G4 l'idea non è ricatturare il pedone ma è spingere in H5. Il bianco va a demolire completamente lo scudo pedonale del nero sul proprio re. Dopo H5 il nero può catturare in due modi o con il cavallo o con il pedone. Su cavallo per H5 il bianco gioca con alfiere per G7, elimina l'alfiere di fianchetto e qua il nero può ricatturare in due modi. Con cavallo per G7 su cui però segue donna H6, la minaccia è quella di matto in H8 oppure in H7 quindi il nero deve giocare con cavallo H5. Ma a questo punto abbiamo donna per G6 scacco, sfruttando proprio il tema di cui vi ho parlato poco fa. Il pedone non può ricatturare la regina perché è inchiodato sul re in G8. Il re deve spostarsi e a questo punto possiamo mangiare il cavallo e oltre a guadagnare la regina diamo anche matto perché su donna per H5 e donna per re H7 abbiamo ad esempio donna H7 scacco matto. Il nero potrebbe anche catturare in G7 con il re ad esempio. A questo punto però avremmo F per G4. Andiamo a far spostare questo cavallo per poi infiltrarci con la regina e dare matto o in H8 oppure ancora una volta in G6 sfruttando l'inchiodatura. Quindi cavallo per H5 va incontro a tutti questi tatticismi. Di conseguenza il nero potrebbe pensare di catturare con il pedone G ma a questo punto possiamo catturare in G4. Il nero ha due opzioni, catturare col pedone H ma a questo punto si è aperta la colonna H e il bianco va subito a creare una batteria di torre regina. L'idea è eliminare il cavallo difensore della casella H7 per poi infiltrarsi con la regina e dare scacco matto. Oppure il nero potrebbe pensare di catturare in E4 ma il bianco giocherebbe con donna E3. Qui più mosse vincono, l'idea è semplicemente attaccare il cavallo in E4 e dopo alfiere per D4 ad esempio possiamo mangiare l'alfiere ma possiamo anche mangiare il cavallo e questa regina sta puntando proprio alla casella in H7. E non solo, sta anche puntando alla casella in G6 visto che l'alfiere sta inchiodando il pedone F. L'alfiere è sotto attacco, deve ritirarsi, arriva torre per H5, attacchiamo la regina in A5, minacciamo donna H7 e il bianco vincerebbe la partita. Quindi è importantissimo avere in mente quest'idea. G4 per poi giocare con H5, è veramente essenziale per migliorare come giocatore d'attacco. In partita però non abbiamo avuto H5, dopo pedone H4 abbiamo avuto donna B5, quindi il nero vuole contraattaccare sul re bianco. A questo punto Fischer sacrifica il pedone H, quindi senza il sostegno del pedone in G4 e cosa succede su un'eventuale cattura? Su G per H5 il bianco può giocare con pedone G4. Simile a prima vogliamo aprire totalmente le colonne sul re del nero e dopo H per G4 catturiamo in G4. A questo punto l'attacco del bianco è veramente devastante. Su cavallo per E4 possiamo ad esempio giocare donna H2, G4 è una mossa che apre anche la seconda traversa per la donna permettendo al bianco di creare questa batteria e qui c'è veramente poco da fare. Su cavallo G5 per difendere il pedone H possiamo giocare con alfiere per G7 e poi torre D5. Quindi attacchiamo sia la regina che il cavallo e qua dopo torre C5 per difendere a raggi X il cavallo in G5, il bianco può andare a giocare donna H6, eliminare il cavallo difensore di H7 per poi dare matto. Quindi questo è un altro esempio d'attacco. Il nero potrebbe quindi pensare dopo pedone H5 di catturare di cavallo. A questo punto però arriva alfiere per G7 e ancora una volta il nero può catturare in due modi o col cavallo con il re. Mettiamo caso re per G7 e il bianco può giocare con G4. Attacca il cavallo che deve sgomberare la colonne H e dopo cavallo F6 possiamo infiltrarci con la regina. Donna H6 scacco, re G8, G5 e come vi avevo accennato a inizio video il cavallo dovrà spostarsi e donna H7 matto sta per arrivare. Su cavallo H5 arriva il bellissimo sacrificio di qualità, tipico in queste posizioni perché dopo G per H5 il bianco può proseguire con pedone G6. E ancora una volta questo alfiere gioca un ruolo fondamentale. Il pedone F non potrà catturare e su H per G6 da una per G6 scacco, re H8, giochiamo con scacco e dopo l'entrata della torre sulla colonna G il bianco vince la partita. Il nero deve sacrificare la regina, la catturiamo e diamo scacco matto. Quindi questo è un altro esempio di quello che potrebbe succedere su cavallo per H5. Dopo alfiere per G7 però il nero potrebbe anche catturare con il cavallo ma a quel punto semplicemente ci infiltriamo in H6 con la regina. E su cavallo H5 andiamo ancora una volta ad attaccare il cavallo che dovrà spostarsi, giocheremo con G5 e poi sacrificheremo ancora una volta la torre come nella variante di prima. Quindi dopo pedone H5 il nero opta per torre C8, quindi ignora totalmente il bianco. A questo punto però apriamo la colonna H e giochiamo con pedone G4 per aprire la seconda traversa alla regina e quindi a volte infiltrarci nella posizione del nero. Alfiere per F6 è molto interessante però dopo alfiere per F6 il nero riesce a difendersi. L'idea del bianco è giocare con donna H6 per minacciare il pedone in G6, ancora una volta sfruttando questa inchioratura, oppure giocare donna H7 scacco e poi donna per F7 scacco matto. Il nero però gioca con pedone E6 e con la presenza di questo alfiere di fianchetto che non siamo riusciti a scambiare il re del nero dorme a sonni tranquilli. Perché dopo donna H7 scacco ora semplicemente va in F8, non possiamo mai entrare perché l'alfiere sta proteggendo e adesso è il turno del nero ad attaccare il re del bianco. Quindi qua ci potremmo trovare in difficoltà. Nulla di tutto ciò, Bobby Fischer gioca con pedone G4 e su pedone A5 va ad attaccare con pedone G5. Il cavallo si sposta in H5 e arriva al tipico sacrificio di qualità. E dopo G per H5 il bianco prosegue con pedone G6, ancora una volta sfruttando il cecchino in B3. Il nero gioca con pedone E5, quindi tenta quantomeno di bloccare l'azione dell'alfiere camposcuro, però il bianco può catturare in F7 con scacco. Il re deve spostarsi e poi gioca semplicemente con alfiere E3. In questo momento il bianco minaccia donna per D6 scacco oppure alfiere H6 per infiltrarci nella posizione del nero una volta eliminato il difensore in G7. Il nero ha posizione totalmente persa, quindi cerca di complicare il gioco, blocca donna per D6 scacco e su donna per D5 cambierebbe le regine. Quindi l'attacco del bianco perderebbe di forza e l'idea qua è bloccare la diagonale dell'alfiere dopo E per D5 per poi catturare in F7. Su alfiere per D5 magari il nero può giocare ad esempio con torre per C2. Quindi abbiamo E per D5, torre per F7 e ora pedone D6. Quindi il pedone si avvicina sempre di più alla casella di promozione. Quindi attacchiamo la torre con il nostro alfiere che si sposta in F6, il bianco però la continua ad attaccare e questa torre ha sempre meno caselle. L'alfiere blocca questa diagonale, l'altro alfiere toglie queste caselle e su torre per F3 il bianco potrebbe vincere in maniera molto carina con alfiere E7 scacco, re E8, D7, forchetta tra re e torre. E dopo re per E7 possiamo catturare la torre ma possiamo dare anche matto promuovendo a regina e qua l'alfiere sta togliendo tutte le vie di fuga. Quindi sarebbe scacco matto. Dopo alfiere G5 il nero gioca donna B7, una mosso ovviamente dettata dalla disperazione, qua la posizione è completamente persa. Catturiamo la torre e giochiamo con pedone D7. Il pedone sta per andare a promozione, in particolare blocchiamo la difesa della regina sulla settima traversa, quindi la donna nera non potrà tornare in difesa e poi giochiamo con donna D6 scacco. Quindi attacchiamo il re, attacchiamo l'alfiere, il nero abbandona perché su alfiere E7 seguirebbe donna H6 scacco matto. Il bianco vincerebbe la partita. Quindi abbiamo visto come fa il bianco ad attaccare contro la variante del dragone. Abbiamo visto tutte le idee principali, in particolare i sacrifici di pedone per aprire le colonne che sono idee d'attacco che possono abbinarsi anche ad altre aperture. Ad esempio quando il bianco gioca contro la difesa Pirc. Detto ciò spero che questo video sia stato d'aiuto e vi abbia insegnato qualche metodo d'attacco nuovo che magari non conoscevate ancora. Detto ciò vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdere nemmeno uno dei prossimi episodi e supportare la crescita di questo canale. Noi ci vediamo al prossimo video.